dalla candi arena di monza saugella team monza lardini filottrano poi tominaga per partenio ancora tutto braccio passa laura partenio filottrano non passa ancora saugella difendere tominaga a prendere la palla ci sono a free ball per monza la mancina di mike hancock eccola qua mike hancock a forzare la ricezione palla vicino alle tetto minaga per whitney trova le mani del muro di begic cui andro in battuta begic la toglie ad arcangeli poi hancock per ortolani infila la palla battezzata fuori così e finisce qua il primo set se lo aggiudica filottrano con un'ottima prestazione begic a cercare partenio questa volta ricezione sui tre metri tominaga la parata di arcangeli su whitney la risposta di ortman a tutto braccio 3 a 0 per saugella questa volta va a ricevere va silantonacchi poi garzaro murata da melandri stagione davvero bene qui che attacco e dinabeghi c'è una palla molto spinta per lei ancock a forzare trova lei arma letale mike hancock partenio la palla si impena sulla testa di tominaga la seconda linea non passa bassi lantonacchi perché c'è il muro di laura melandri la chiude lei 25 18 gran muro di laura melandri a chiudere il set ma si è lantonacchi in battuta bausch che la battaglia da d'arcangeli ortonani in bagger per begic a tutto braccio la difesa in palleggio di partenio ma pulisce tutto a rettere c'è l'adams dai 9 metri e spera jana whitney su un errore in ricezione adams in battuta ricezione di cardullo whitney dalla seconda linea che difesa adams e poi la risposta con la diagonale di serena ortolani va ad angolare dove c'è partenio che riceve poi deve tag tira sulla clara franci da vol la ricezione di begic poi ortolani fulmina la difesa in filottrano finisce qua anche il terzo set se lo giudica saugela timonza con il punteggio di 25 21 bassi lantonacchi in battuta ricezione perfetta di arcangeli dalla seconda linea il pallonetto morbido col goniometro di serena ortolani bassi lantonacchi murata da mike hancock intanto sopra il muro in mezzo al muro serena ortolani il cardullo poi bassi lantonacchi la difesa di facchinetti hancock per orman il tocco morbido toccato da whitney altra posita per monza begic da seconda linea il pallonetto di edina begic e dunque match point monza la battuta ai facchinetti su vasilantonacchi tovinaga per vasilantonacchi il muro di adams finisce quella partita saugella vince 3 a 1 contro filottrano e fa un bel passo avanti nella corsa per il quarto posto inolio 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 Grazie a tutti.